Polifemo, l'occhio di Abate, seconda parte di venerdì 4 dicembre, ore 22 e 20, viva la Pugliaccià nel canale 93 del Digitale Terrestre e replica domenica 6 dicembre alle ore 15 e 50, una puntata dedicata ai problemi dell'estetica, al mondo dell'estetica. Da un lato le problematiche inerenti alla sicurezza, alla legalità, alla necessità di combattere il lavoro nero innanzitutto per la salute di chi si sottopone ai trattamenti d'estetica e poi anche l'estetica intesa come prospettiva di crescita, di sviluppo, come possibilità di creare occupazione e di trovare occupazione. In quest'ottica l'iniziativa di Confartigianato, appunto, Formarti. E allora vediamo gli ospiti della puntata. Fabio Paolillo, direttore di Confartigianato Taranto, il dottor Cosimo Scarnera, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell'Asda di Taranto, nonché direttore dello Spesal. La dottoressa per la Suma, già consigliera di pari opportunità e Raffaella Semeraro, responsabile provinciale e regionale di Confartigianato, settore estetica. Una puntata, ripeto, che andava fatta perché riguarda una problematica importantissima per la crescita del nostro territorio e per l'educazione alla legalità. Buona visione.